Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video. Questa notte si è tenuto il primo giorno del D23, sono stati fatti tantissimi annunci partendo dallo showcase Disney e Marvel dei videogiochi, che però non vedremo in questo video. Passando poi ai panel di Disney Studios, Pixar e Disney Animation, che sono i protagonisti di questo video, penso l'abbiate ormai capito. Farò un recap di tutti gli annunci e tutti i rilasci che sono stati fatti questa notte, vi informo che userò come archivio degli annunci e delle notizie il profilo Instagram Tickets4Nerd. Infatti questa notte non ho seguito l'evento in live, cosa che in realtà non faccio quasi mai, perché ho passato il mio tempo dall'1 a meno un quarto fino alle 3 a postare su questo profilo in tempo reale tutte le cose che venivano dette al D23. Ed è per questo che vi dico che se volete rimanere aggiornati su tutte le news, i rumor, leak e tanto altro dal mondo nerd e dalla cultura pop, soprattutto in questo periodo visto che ci sono diversi eventi, tra l'altro statera ci sarà il panel di Marvel seguito da quello di Lucasfilm, se volete appunto rimanere aggiornati su tutte queste cose, il link di Tickets4Nerd è in descrizione. Vi chiedo ovviamente di seguire il profilo per supportare il lavoro. In descrizione, oltre al link di Tickets4Nerd e degli altri miei social, c'è anche il link di Pampling, il sito di t-shirt e articoli nerd dove trovate la t-shirt che state vedendo adesso sullo schermo, il mio codice ilpensiero4 è sempre disponibile, vi dà la possibilità di scegliere un paio di calze, inserirle nel carrello e averle gratis, senza spendere un centesimo, e fino a mercoledì, fino a questo mercoledì, tutte le t-shirt del sito sono a 10 euro, poi torneranno a prezzo intero, non si sa se e quando questa promozione tornerà. La promo è ovviamente compatibile con il mio codice. Ma adesso passiamo agli annunci prima di Disney Studios, quindi chiamiamola anche Disney Live Action. Il primissimo prodotto di cui hanno parlato è Hocus Pocus 2, che arriverà il 30 settembre su Disney+, è stato rilasciato un nuovo trailer, un nuovo poster, devo ammettere che Hocus Pocus è una delle mie mancanze, quindi prima del 30 settembre probabilmente guarderò il primo film, magari per fare poi la recensione fatemi sapere con un commento se potrebbe interessarvi. È stato poi rilasciato il primo trailer, il primo poster di Disenchanted, il sequel di Comedy Incanto, questo film l'ho visto, anni fa, quindi non ricordo tantissimo in realtà, gli ridarò un'occhiata prima o poi, prima del 24 novembre, prima che esca questo film, sempre su Disney+, è stato poi rilasciato il teaser poster di Peter Pan e Wendy, remake live action delle avventure di Peter Pan, il film Disney, ci sarà Jude Law nel cast che interpreterà Capitano Uncino, il film uscirà nel 2023, non si sa in che mese, però l'anno lo abbiamo, uscirà su Disney+, e al di 23 hanno già avuto la possibilità di vedere un piccolo teaser in esclusiva. Sempre in esclusiva è stato mostrato un trailer di Haunted Mansion, o La Casa dei Fantasmi, non so se verrà chiamato così anche in Italia, come il film con Eddie Murphy, perché effettivamente non è proprio un remake di quel film, perché entrambi sono tratti da un'attrazione di Disneyland, però sì, è quello il senso. Il film arriverà a marzo 2023 al cinema, il cast è davvero stellare, partendo da Owen Wilson, Rosario Dawson, abbiamo anche Jared Leto, Winona Ryder e tantissimi altri nomi importanti. È stato poi confermato il titolo ufficiale del prequel del remake del Re Leone, Mufasa The Lion King, e non so voi ma questo titolo mi ricorda molto, non so, un A Star Wars Story, e io spero davvero che non sia l'intento di Disney, perché, ok, il remake del Re Leone live action mi è piaciuto, anche se live action così tanto non era, visto che era tutta CGI, però non so, non ci terrei così tanto ad avere poi prossimamente un film Zazu, The Butler of the Lion King, così, spin-off sui personaggi del remake a caso. Ok, finché si parla di Mufasa, magari c'è appunto tutto l'interesse riguardo Mufasa e Scar, il loro rapporto da piccoli, da adolescenti, sempre se di adolescenti parliamo, visto che stiamo sempre parlando di leoni, ma sicuramente un po' più di curiosità c'è, non voglio però quegli spin-off di cui vi ho parlato, magari poi prossimamente anche un Re Leone 2 ci potrebbe stare, ma davvero speriamo non si crei un universo condiviso del Re Leone. Il film arriverà più in là nel 2024, io penso nell'estate, perché comunque ancora non si sa l'effettivo mese e il giorno, però mi sa da film estivo proprio come il primo film che è uscito, se non sbaglio, prima in America a luglio, o anche prima forse, e da noi qua ad agosto. È stato poi rivelato il titolo e quindi il logo di Snow White, il film live action di Biancaneve, e arriverà anche questo in un generico 2024, non abbiamo ancora il mese. Ne hanno parlato un po' come un film diverso da quello che possiamo aspettarci, io quindi mi immagino un film ambientato nei giorni nostri, anche perché c'erano questi rumor tempo fa, e nel cast vi ricordo che abbiamo Rachel Ziegler ad interpretare la protagonista del film e Gal Gadot ad interpretare la villain, quindi la regina cattiva. È stato poi rilasciato un teaser trailer della Sirianetta, il trailer è arrivato su tutti i social, quindi anche per noi comuni mortali, mentre al D23 hanno mostrato un intera clip di 4 minuti di una canzone del film. È stato confermato ci saranno 4 canzoni in più in confronto al classico Disney, e il film in Italia arriverà il 24 maggio 2023 in sala. Ho già fatto la reaction al trailer, quindi se vi interessa la trovate qui. La parte Disney Studios finisce qui, quindi passiamo direttamente a Pixar con tutti gli annunci e tutte le cose che hanno fatto vedere. Come primissima cosa hanno parlato naturalmente di Elemental, che sarà il prossimo film Pixar in uscita giugno 2023. Sarà un film su questa coppia formata da due elementi differenti, uno acqua e l'altra fuoco, che si amano tantissimo, ma allo stesso tempo non possono nemmeno toccarsi. Conoscendo Pixar naturalmente sarà un film con tema centrale e la diversità anche nelle coppie, e sinceramente sono molto curioso di vederlo. Oggi è detto che uscirà a giugno 2023, ed è stato rilasciato il teaser poster assieme ad uno screen di una scena. Successivamente hanno parlato di Win or Lose, una serie Disney-Pixar in arrivo su Disney+. Dieci episodi animati, al centro della storia abbiamo una squadra di softball, capitanata dall'allenatore Dan, doppiato da Will Forte, e ogni episodio avrà al centro della narrazione un diverso membro della squadra, con il suo punto di vista riguardo una settimana abbastanza importante per il gioco, e non solo. Ogni episodio avrà uno stile d'animazione diverso, almeno così ne hanno parlato. Naturalmente, anche se ormai non è più una cosa così tanto originale, sono molto curioso di vedere questa serie. È stato poi annunciato da Pixar il film successivo ad Elemental, ovvero il primo film del 2024, che si chiamerà Helio. Non so per quale motivo ancora non sia uscito il logo ufficiale sui profili social di Disney, ed infatti quello che vedete l'ho ricreato io alla buona con il telefono per questo video, però è stato rilasciato un concept del film, assieme ovviamente ai diversi leak che provengono dal D23, che contengono anche il logo. Helio racconterà di un bambino di 11 anni che per puro caso viene rapito dagli alieni, ed entra in contatto con una sorta di ONU spaziale. Dopo una successione di eventi, Helio diventerà l'ambasciatore della Terra. Dopo Helio è stato ufficialmente annunciato il secondo film del 2024, e sto parlando di Inside Out 2. E in realtà ne parlavano già rumor nella mattinata di ieri, quindi questo potevamo anche aspettarcelo. Al centro del film, di nuovo la testa di Riley, anche se questa volta un po' diversa, visto che la ragazza ora è adolescente. Verranno infatti presentate anche nuove emozioni, e questo non so quanto possa essere sensato, visto che noi già nel primo film vediamo che comunque all'interno della testa di altri personaggi, compresi madre e padre di Riley, ci sono solamente quelle cinque emozioni, non ce ne sono altre. Però potrebbero metterla giù come emozioni temporanee, ma è un po' difficile, c'è tutto lo studio di psicologia che hanno fatto per il primo film, penso l'abbiano fatto anche per questo secondo, magari io non ho assolutamente le potenzialità, le capacità di parlare di queste cose. Pixar finisce qui, si passa poi a Disney Animation con un banner promozionale di Isotopia Plus, una serie sequel di Isotropolis che arriverà su Disney Plus nel 2023, non è stata detta ancora una data ufficiale, e in ogni episodio vedremo una storia diversa su un personaggio secondario del film, per esempio Flash il Bradipo. È stato poi fatto vedere qualcosa di Iwaju, o Iwaju non saprei come leggerla, che è una serie di Disney che arriverà su Disney Plus nel 2023 anche in questo caso, ed è il primo prodotto Disney moderno ad avere una collaborazione con uno studio di animazione esterno. Infatti, se vedete sul logo, abbiamo il logo Disney, solito puntino, e al posto della solita Pixar abbiamo Kugali, che è uno studio di animazione africano. È stata anche rilasciata una prima immagine ed è stato confermato che la serie sarà una vera e propria lettera d'amore alla Nigeria. Al centro della storia avremo Tole e Cole, che sono due ragazzi nigeriani che cresceranno assieme in questa ambientazione futuristica. È stato poi annunciato il nuovo classico Disney che arriverà nel 2023, e che si chiamerà Wish, ed è stato anche confermato che sarà un film che celebrerà i 100 anni di Disney. Infatti anche all'evento è stato presentato il nuovo logo per proprio questo anniversario. Wish lo vedremo nel novembre 2023, penso che prima di questo ci sarà un altro classico, perché il prossimo anno tocca a Disney avere due film nella schedule, e al centro di tutto c'è la domanda come è nata la stella dei desideri che molti personaggi guardano nei loro film. La protagonista si chiamerà Asha, sarà doppiata da Ariana DeBose, e sarà proprio lei a desiderare la creazione di una stella dei desideri, che poi prenderà vita. È stata rilasciata una prima immagine, e sono arrivati anche dei leak dal D23, ed è stato confermato che il film avrà una fusione tra la CGI, e quindi l'animazione 3D, e uno stile acquarelloso 2D. Sinceramente sono molto curioso. Prima di chiudere con il video, ho voluto creare una timeline con tutti i prodotti annunciati, o comunque ripresentati, in questo D23, per mettere un po' tutto in ordine. Rivediamola assieme per un veloce secondo recap. Si inizia il 30 settembre con l'uscita di Hocus Pocus 2 su Disney+, successivamente il 24 novembre arriverà Disenchanted sempre su Disney+, a dicembre qui in Italia arriverà Strange World, nuovo classico Disney di cui al D23 hanno solo mostrato una nuova immagine, a marzo 2023 arriverà in sala Haunted Mansion o forse La Casa dei Fantasmi, poi il 24 maggio arriverà La Sirenetta, Live Action, a giugno, probabilmente il 16 giugno in America arriverà Elemental, per l'appunto a novembre arriverà Wish, che secondo me sarà il secondo classico del 2023, il primo devono ancora annunciarlo, e per quanto mi riguarda potrebbe tranquillamente trattarsi di Penelope, ma ne ho già parlato nel video Previsioni di D23 che vi lascio nelle schede, poi abbiamo un generico 2023 per Zootopia, Win or Lose e Iwaju, che ho posizionato tutti vicini aspettando appunto una data confermata, ma non penso assolutamente che arriveranno dopo novembre, e abbiamo ancora una volta una data da confermare per Peter Pan e Wendy, remake di Peter Pan che arriverà su Disney+, nel 2023 anche questo, nella primavera 2024 avremo Elio, il nuovo film Pixar, nell'estate 2024 avremo Inside Out 2, e ancora senza una data completa nel 2024 sempre avremo Snow White, Biancaneve e infine Mufasa e The Lion King. Voglio sapere nei commenti quali di questi prodotti non ancora usciti, o che comunque usciranno fra qualche anno, attendete di più. Se volete sapere la mia io aspetto molto Elemental, per lo più per il nome Pixar, poi Wish per capire bene di cosa si tratta, sono tanto tanto curioso sia per Inside Out 2 che per Elio, e infine aspetto sia Snow White, Biancaneve che Mufasa e The Lion King per capire che cosa faranno. Ma ragazzi, questi erano tutti gli annunci e rilasci della prima giornata dell'I23, vi ricordo che oggi dalle 19 partirà il panel dei Marvel Studios, e successivamente quello di Lucasfilm, quindi Star Wars, Indiana Jones e possibilmente altri prodotti, e quindi vi ricordo ancora una volta che se volete rimanere aggiornati in tempo reale su tutte le news, tutti i rumor e tanto altro dal mondo nerd e della cultura pop, in descrizione trovate il link di Tickets for Nerd assieme agli altri miei social, e il link di Pampling. Codice Il Pensiero 4 per supportare il mio canale e avere un paio di calze gratis, e tutte le t-shirt al momento fino a mercoledì sono a 10 euro l'una. E niente ragazzi, io sono Andri, questo è stato un altro mio pensiero per voi, noi ci vediamo in un prossimo video sempre su questo canale, Andri passa e chiude. Ciao!